Oggi sono stato giù in città, oh yeah, la biblioteca è quella là. C'è una ragazza che ti dà consiglio su quale libro fa per te. Signorina me lo prende lei quel libro, è lassù e non c'è rio. Sì è quello con la copertina gialla, sa che lei mi manda in palla, oh yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ammazza che gambe c'è sta qua, oh yeah, fa un gran caldo lei lo sa. Dosto gli eschi o Hemingway, ma sì dai, non mi importa più perché. Signorina mi perdoni, non sto bene, si gela il sangue nelle vene. Io lo so, lei sta ancora lavorando, ma io mi sto innamorando. Signorina, la prego, non sorrida. Io qui ci passerò la vita, mio cuore brucia di passione, lei è un colpo di cannone. Sì lo so che ora devo andare a casa, vorrei tanto riederla ancora. Se non c'è in mezzo un grosso fidanzato, sarò il suo libro prenotato. Ye, 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 ye Grazie a tutti